Buonasera e ben ritrovati con Sportivamente, gli occhiali di Elisa di Casale Cortecerro, il presente, il passato di tutti gli sport del nostro territorio, la pallavolo, la pallavolomenia che ha dato un fiore come Eleonora Lobianco al termine della propria carriera ma sta per intraprendere un'altra meravigliosa avventura e poi un altro sport molto praticato nel nostro territorio come la canoa con i ragazzi della canottiere Omenia, con Giacomo, Silvia e Alice che hanno ottenuto un grande risultato recentemente in quella di Mantova. Partiamo però da Eleonora, uno dei simboli del nostro sport, uno dei simboli di tutta la pallavolo azzurra e non solo, una carriera meravigliosa, è terminata e adesso sei pronta a una nuova avventura, sei al quinto mese di gravidanza. Sì, buonasera a tutti, prima cosa grazie per avermi voluta qui, è sempre un piacere. Sì, non è stato facile annunciare la fine di questa carriera ma è arrivato un motivo finalmente che mi ha spinta a dire basta, è finita e adesso davvero comincio qualcosa di nuovo, di diverso, di bellissimo. Sei stata un simbolo, avrai ricevuto tanti messaggi in questi giorni, ti avranno portato grande gratificazione, sei entrata anche nella Hall of Fame della pallavolo e dello sport azzurro. Sì, devo dire, sono stati giorni intensi col telefono perché tra i social, i messaggi, le telefonate che mi sono arrivate, devo dire, grandi manifestazioni di affetto da parte del mondo della pallavolo in generale ma non solo. E poi questo riconoscimento che ho ricevuto qualche settimana fa a Roma, ecco diciamo che è arrivato davvero in chiusura, per me è stato perfetto, ha messo proprio un sigillo, una fine con l'entrata, chiamiamolo l'Olimpo di atleti, quindi bellissimo. Due numeri, 548, vale a dire le presenze nella storia della Nazionale Azzurra di Eleonora Lobianco, nessun atleta italiano come lei in nessuna nazionale, cosa significa per te il colore azzurro? Ma è quello che ho vestito di più, come hai detto, in tutta la mia carriera. Ho sempre, penso come anche questi ragazzi che sono qui oggi, no? Credo che un atleta quando inizia, quando sogna, sogna andare a giocare in nazionale, quindi l'averlo vestito così tante volte rimane ovviamente qualcosa di bellissimo, di stupendo, no? Nella carriera di un atleta, ora nella pallavolo, ma anche negli altri sport non c'è nessuno che è arrivato a tanto, ma secondo me arriveranno, vedrai, perché ci sono tanti giovani. Tanti giovani e poi c'è anche il 14 che ha sempre contraddistinto la tua carriera. Come è nato il legame con questo numero? Ma è nato semplicemente perché era il numero di Manuela Benelli, che era un'alzatrice, insomma, bravissima, a cui io mi sono ispirata, che poi è stata anche mia allenatrice, quindi io ho deciso di portare il suo numero sulle spalle per tutta la mia carriera. Al di là dell'inizio, che qui a Omeni avevo l'uno, poi dopo ho cambiato. Poi sei partita con il 14 e non ti sei più fermata, un altro numero, il 3, perché questi ragazzi si sono piazzati tutti al terzo posto. In K1, a Mantova, nei campionati italiani sui 5.000 metri, Giacomo Combi, un bronzo che ha significato tanto anche per te, Giacomo. Sì, sì, sicuramente una grande soddisfazione perché il 5.000 è una gara non facile, diciamo che bisogna avere sicuramente una predisposizione per la resistenza, ma sicuramente anche la velocità fa, diciamo, un 40% della gara perché la partenza, la chiusura, gli scatti primi dei giri di boa sono sicuramente fondamentali. Quindi il 5.000 chiude un po' velocissime e fondissime, quindi quello che ho raggiunto è sicuramente un buon piazzamento. È stata una gara attiratissima, tra l'altro, perché siete arrivati tutti lì, il primo ha vinto con un secondo e otto di vantaggio su di te, è stata attiratissima. Sì, eravamo un gruppetto di tre ragazzi che dopo circa due chilometri ci siamo staccati dal gruppo principale e è stato tiratissimo, sì, perché ci siamo sempre invertiti a tirare, quindi cambiando le scie tra noi tre, ma gli ultimi 200 metri sono stati quelli che comunque hanno stabilito l'ordine di arrivo. E questi due ragazzi, entrambi toscani, mi avevano un po' più di bene, diciamo, e mi hanno messo la punta davanti. Non sono riuscito a chiudere come volevo, anche se comunque sono molto contento di questo risultato. Bravo Giacomo, e hanno urlato tantissimo sulle tribune di Mantova per il tuo terzo posto Silvia De Giuli e Alice Garbini, che sono arrivate anche loro terze nel K2, categoria ragazze, un'amicizia che è nata sulla imbarcazione, la vostra. Sì, molti anni fa, lei aveva otto anni, io nove, abbiamo iniziato praticamente insieme a un anno di distanza, ma subito ci hanno messo sulla barca da due, è nata un'amicizia e una buona imbarcazione. Che è ritornata in auge quest'anno, perché poi vi avevano anche separato un pochino per la divisione in categorie. Sì, purtroppo per tanti anni non abbiamo potuto fare queste gare e finalmente da quest'anno potremmo ricominciare e abbiamo avuto questo risultato che ci ha dato molta soddisfazione. Siete partite alla grande, come è stata la gara Silvia? Vi siete staccate subito e siete andate veloci verso il traguardo per portarvi a casa quella meravigliosa medaglia di bronzo che avete al collo? I 5.000 sono tosti, perché il 60% della gara lo fa la testa. Se sei davanti vai, appena qualcuno prova a superarti sei lì, che dici devo per forza andare, non posso mollare perché c'è ancora tanto. E dall'inizio sì, eravamo avanti e abbiamo fatto fatica perché c'era un'altra imbarcazione con due ragazze che ci stavano sempre dietro, pronte a superarci. Però era tutto un dai Silvia, dai Alice, ci siamo date forza vicenda. Forza vicenda, ecco, quanto è importante sulla barca andare in sintonia ed essere sempre consapevoli di come sta l'altro? È molto perché comunque devi capire quando non puoi esagerare perché sennò non si sta su più e bisogna andare insieme con la stessa forza. Insieme con la stessa forza e qui abbiamo un esempio calzante di chi doveva far girare l'insieme della squadra. La palleggiatrice nella pallavolo a questo ruolo. Eleonora, anche tu dovevi carpire il momento del match e anche come stavano le tue compagne in campo e come stavano le tue avversarie dall'altra parte della rete. Sì, era determinante per me riuscire a capire lo stato di forma della giornata ma anche del singolo momento di ogni mia compagna. Questa era un po' la difficoltà del palleggiatore. Dovevo conoscere le mie compagne talmente bene da sapere che in quel momento proprio non si poteva utilizzare un giocatore oppure si doveva utilizzare un altro. Quindi nei momenti decisivi soprattutto sapevo già chi potevo dare la palla e chi no. Quindi questo faceva parte diciamo dello studio che facevo giorno per giorno in ogni singola squadra. Tante le tue avventure, tante le tue soddisfazioni, ce n'è una che porti particolarmente nel cuore nella tua lunga carriera? Ce ne sono tantissime. Devo dire, come dico sempre, ogni vittoria secondo me ha il suo sapore perché comunque viene grazie al lavoro, alla fatica, a un percorso. Chiaramente la mia prima vittoria importante è il mondiale del 2002 in cui ero giovanissima, avevo neanche vent'anni quindi insomma è stato il primo successo importante. Primo successo importante con alcune colleghe, quasi tutte si sono ritirate, tranne un paio. Francesca Piccinini mi dici che va avanti ancora. Ma non so, si è sentito che fa un altro anno. Complimenti, è veramente incredibile essere ancora lì, protagonista. Ancora adesso si gioca le finali di Champions. Quindi insomma, tanto di cappella un atleta che ha dato e sta dando tantissimo al pallavolo. Ecco, ce ne sono ancora tante di domande e di curiosità che vogliamo sentire da Eleonora Lobianco e da questi tre ragazzi che stanno impostando una bellissima carriera nel mondo della canoa. Ci interrompiamo un attimo a quattro occhi col Trent, Gianluca Trentini, Monica Amorando, presidente della Pallavolo al Siora di Verbagna. A quattro occhi col Trent siamo tornati alla palestra delle Ranzoni di Verbagna per conoscere la presidentessa, Monica Amorando, presidente di Al Siora. I fatti sono noti, c'era il presidente Fabio Scarpati, tu eri vicepresidente, per vari motivi lui ha dovuto lasciare l'incarico e sei stata eletta con fumata bianca, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao Monica. Ciao, ciao a tutti. Sì, ok. Niente, no, io ero vicepresidente, quando Fabio ha avuto un po' di problemi di lavoro e ha lasciato, abbiamo fatto, cioè è stata dura, ma alla fine ho accettato di diventare presidente perché è abbastanza una responsabilità grande. Senti, ma facciamo qualche passo indietro, tu come l'hai scoperta la Pallavolo? Io l'ho scoperta da ragazza, quando giocava ancora il Peppo Bonfantini, il mitico Beppe Garisio, però proprio dentro all'Al Siora sono venuta con mio figlio, il mio del Tommaso, che ha iniziato a nove anni con Marco Calcaterra e Alberto Franzini e sono qui da allora. E poi pian pianino, come si dice, da cosa nasce cosa, magari hai cominciato a dare una mano, hai cominciato a vedere cosa si poteva fare, finché ti sei seduta sul poltrone da presidente. No, sì, c'era, mi ricordo, Laura Bazzoni che mi ha chiesto di entrare e ho dato una mano. Io sono molto disponibile a dare una mano sempre e quindi mi sono andata da fare per aiutare. Poi sono diventata vicepresidente dopo due anni e quest'anno presidente. Spero di essere all'altezza. Senti, ma come si vive da fuori, da tifosa, da accompagnatrice, da collaboratrice e come si vive invece da chi deve prendere le decisioni, perché alla fine sei il presidente? Sì, al di fuori sembra sempre che il consiglio del presidente non faccia niente, perché io mi ricordo, dicevi, ma sì, invece quando sei dentro ci sono tantissimi lavori da fare. Io devo dire che Fabio, prima di me, era un bravissimo burocrate, era un bravissimo che teneva un sacco di cose. Io mi sono trovata spiazzata e ho avuto la fortuna di aver di fianco persone che mi danno una mano grande, anche Marco Caccaterra, che se non c'era lui io non so come avrei fatto a fare i cambiamenti e non cambiamenti delle partite. Anche solo lo spostamento delle partite che è il cubo di Rubik, per capire. Pazzesco, perché poi quando entri dentro nella FIPA non capisci niente. Però vabbè, ho avuto la fortuna di essere accompagnata da loro che sono veramente in gamba. Senti, ma tu invece, Monica, in un club di pallavolo maschile, dove siete tantissime donne in consiglio, perché se non mi sbaglio c'è solo Mauro Caminito che è maschietto, no? Mauro Caminito, poi ce ne sono altri tre, c'è Alessio Faraci, Albini, no, ce ne sono altri quattro, Russo Alesi e... E un altro, mettiamolo così, salutiamolo l'altro. No, senti, a parte questo lapsus che poi ci può stare perché è emozionatissima, più adesso che quando è stata eletta presidente Monica Valerio Proleva. Tu personalmente cosa hai portato di tuo, non so, della tua esperienza, una tua intuizione? Ma no, io ho voluto portare... vabbè, una cosa che secondo me mancava in pallavolo al Ziora era... Abbiamo dei grandi tecnici, ma non abbiamo un lavoro sulla mente, solamente dei ragazzi. I ragazzi si spaventano, hanno dei pregiudizi, hanno degli alibi. Ho voluto provare con un coach mentale che abbiamo preso quest'anno, che è Marco Moz, bravissimo, sta lavorando con la prima squadra e con Marco Calcaterra. Dopo, quando riusciremo a trovare una quadra, lavoreremo anche con Leander, che è un po' alla volta. Poi, vabbè, abbiamo... io sono abbastanza un'organizzatrice, abbiamo organizzato una serata insieme a Rosa al Ziora e del... Con Cassioli. Con Cassioli, anche lui è un coach mentale, proprio un ragazzo fantastico perché da un suo difetto è riuscito ad avere la sua fortuna, si può dire. Allora, organizziamo delle serate a tema, non so, abbiamo fatto una cena qua, non so se hai sentito, di Carnevale, dove i ragazzi dal mini volley alla prima squadra hanno vestito in maschera e ci siamo divertiti tantissimo. A Pasqua mandiamo una squadra per la prima volta a fare un torneo a Cesenatico, con i ragazzi dell'Under 16 e dell'Under 18 e poi organizzeremo dei camp vestivi. Allora, meno al fatto sportivo, poi ci salutiamo. Una C che è in strada per cercare la salvezza, ma tante belle cose dal settore giovanile, perché ci sono tante squadre che sono arrivate alle Final Four, una peraltro organizzata tra qui e il Palamanzini. Quindi direi che il lavoro di Semina è molto, molto positivo in vista del futuro. Siamo riusciti quest'anno, siamo riusciti a portare cinque squadre nelle finali Under, nelle finali territoriali. Territoriali FIPA. FIPA. Oltretutto due squadre sono arrivati terze, quelle di Under 14 e Under 18, quindi un bel successo. Poi abbiamo anche una squadra Under 16 che sta lauttando per andare alle finali regionali e quest'anno stiamo cercando di lavorare per farci dare anche la finale regionale dell'Under 18, che sembrerebbe, cioè sembra... Sembra buona, possibile. Sembra fattibile. Questa cosa secondo me è molto positiva non solo per la pallavolo, ma anche per Verbagna, perché portiamo su un sacco di atleti da tutto il Piemonte, famiglie che non hanno mai conosciuto Verbagna, perché noi quando andiamo vicino a Torino ci chiedono, ma come siete in Piemonte? Pensavamo in Lombardia. Quindi Verbagna deve essere conosciuta molto di più. Tiriamo giù la clerno comment su questa cosa qua. Senti, un'ultimissima cosa, poi ci salutiamo, se guardi avanti per il futuro di Alziora, cosa vedi? Io spero come quest'anno. Quest'anno è stato un bellissimo anno con ragazzi che si sono impegnati tantissimo, abbiamo avuto tante soddisfazioni e sempre più avanti, sempre più in alto. Ad Alziora, giustamente si dice così. A 4Kg30 alla prossima con Monica Morando. Ciao a tutti. Ben ritrovati dagli occhiali di Elisa di Casale Cortecerro, straordinari ospiti questa sera con Eleonora Lobianco, con i ragazzi della Canottieri Omenia. Eleonora, tu hai fatto anche un'esperienza all'estero abbastanza lunga, in quella della Turchia, un paese molto legato alla pallavolo. Hai cambiato due squadre, Galatasaray e Fenerbace. Ecco, anche in questa esperienza, che cosa hai portato dietro? Beh, è stata un'esperienza particolare, molto bella. Non credevo così tanto, perché pensavo fosse un pochino più difficile, perché sono stata alla fine là a 4 anni, ho vissuto là 4 anni. Però, devo dire, ho trovato un bellissimo ambiente. E poi ho finalmente provato, insomma, cosa vuol dire fare la straniera, no? Perché io ho sempre visto arrivare in Italia tante straniere e volevo provare anch'io. Adesso voglio fare anch'io la straniera. Ed è effettivamente un po' più complicato, no? Perché pretendono tutti di più ancora da te, no? Se già si pretende, pretendono di più perché arrivi e dovresti essere quello che fa la differenza. Quindi è un'enorme responsabilità, ma è comunque molto stimolante. Molto stimolante, tra l'altro in due piazze non proprio tranquillissime, perché il tifo in Turchia è sempre molto caldo. Sì, quella è stata l'unica cosa che non mi è piaciuta, perché ero abituata all'Italia. L'Italia, secondo me, ha un pubblico fantastico, perlomeno nei palazzetti, dove io ho sempre giocato. E là invece era un tifo perlopiù da stadio, però dentro un palazzetto. E quindi era troppo, era esagerato. Alcune volte ci sono state interruzioni di partite, perché poi ho giocato sempre nelle squadre peggiori, perché facevano sempre questi derby e finiva sempre un po' a bottiglie che volavano. Cose che per me non esistono. Però al di là di questo, insomma, tutto bene. Se c'è un qualcosa che manca nella tua bacheca, probabilmente una medaglia olimpica, c'è qualche rimpianto per questo? Sì, io dico sempre, ci ho provato. Non posso dire di non averci provato, perché sono nata cinque volte a questa manifestazione, però si vede che non era nel, come dico sempre, non era nel mio destino, perché non è possibile che proprio quella medaglia non sia mai arrivata. No, a parte gli scherzi. Abbiamo sempre sbagliato, almeno nelle ultime quattro edizioni, noi abbiamo sbagliato delle partite che potevamo tranquillamente vincere, andare almeno nelle quattro, ecco, e giocare per una medaglia. C'è un esempio straordinario dello sport del territorio e più in generale dello sport italiano. Ci sono qua tre ragazzi per cui la canoa è uno sport in cui i giochi olimpici sono veramente il massimo. Cosa puoi dirgli rispetto a questa esperienza ai giochi olimpici? Beh, cosa posso dirgli? Quello che si aspettano, ovvero che è la più bella manifestazione a cui un atleta può arrivare. Ecco, quindi, visto che già cominciano ad avere dei piccoli risultati qui, che provino ad avere questi grandi risultati, quindi arrivare alle manifestazioni come l'Olimpiade, insomma, potranno poi accorgersi cosa vuol dire piano piano aumentare sempre di più per arrivare all'alto livello e quindi che continuino così, ecco, sono sulla buona strada e glielo auguro davvero. Qualcosa che ti fa rimanere con la bocca aperta all'Olimpiade e per quanto riguarda i vostri progetti per il futuro, Giacomo, in quest'anno cosa ti aspetti? Dove andrai? Ma diciamo i prossimi obiettivi saranno a fine mese dove abbiamo una gara nazionale sempre a Mantova, dove invece gareggeremo sulla velocità ai 1.500 e ai 200 metri e sicuramente punterò ad arrivare sempre nelle prime posizioni perché poi l'obiettivo sicuramente della stagione sono le selezioni junior a giugno, dove gli atleti più forti tra la categoria junior appunto verranno selezionati per poi partecipare ai mondiali e agli europei di luglio. Domanda secca, preferisci velocità oppure resistenza su una lunga distanza? Ma diciamo che sono affezionato entrambi perché sono forse più predisposto per la lunga distanza, per i 5.000, però anche una gara come i 1.000 metri è comunque importante la resistenza, sicuramente non sono predisposto per una gara tipo i 200, quindi nei 1.000, già nei 500 sono gare che posso competere ad alti livelli. Silvia, tu fai anche gare singole oppure solo in K2 insieme ad Alice e se continuerà questo binomio che è stato vincente? Certo, quest'anno continueremo sicuramente, infatti a Mantua il 27 e il 28 aprile faremo due gare in K2 e una in K1, in K1 sui 200 e in K2 sui 200 e 500 e speriamo sempre di dare il massimo sia da sole che in coppia. Alice, com'è nata la tua passione per la canoa? Ma io ho iniziato quando ero ancora piccola e ancora stavo provando tante cose da fare per trovare quella che mi piacesse, avevo anche l'influenza di mio papà che ha fatto questo sport e poi mi piaceva l'idea di stare all'aria aperta, non tanto in una palestra così ma essere a contatto con l'aria. E con l'acqua anche in questo senso e abbiamo anche però la motivazione per cui Eleonora Lobbianco è andata in palestra, c'è magari un cartone animato che può aver avuto un peso specifico? Sì, è banale come motivazione però io ho iniziato così con una mia compagna e amica, grande amica Natalia Viganò, siamo messi a guardarsi i cartoni di Mila e Sciro, siamo andati in cortile e poi da lì tutto è nato, più o meno avevo come loro sui 7-8 anni, mio papà mi ha iscritto a un corso di minivolle nell'Uminia Pallavolo e da lì basta, solo quello. Nei ringraziamenti in un articolo della Gazzetta L'Edolo Sport hai messo al primo posto la famiglia? Ma sì perché penso che anche, magari anche questi ragazzi lo sanno, che quando la famiglia ti dà una mano ti aiuta nel senso, nei momenti di difficoltà ma anche nei momenti in cui è presente per le tue vittorie, per le tue sconfitte, per un piccolo torneo, cioè i miei sono venuti dai primi tornei di minivolle fino praticamente alla fine, quindi sono un sostegno che non deve essere mai invadente ma presente sempre. Un arrivederci alla Pallavolo? Giocata sì dai, magari qualche torneino fra un po', insomma dopo la maternità ci sta. No, a parte gli scherzi, giocata per forza dai in questo momento e comunque ci sta, non è che io volessi tirare fino a chissà quanti anni perché dopo sarebbe stata un'esagerazione. Spero che la Pallavolo rimanga nella mia vita in un altro modo, ecco anzi ci conto. Però adesso tanti auguri per la tua nuova avventura da mamma, tra qualche mese festeggeremo tutti insieme e auguri anche in bocca al lupo per la stagione a Giacomo, a Silvia, ad Alice, grazie per essere stati con noi, grazie Eleonora non soltanto per la tua presenza ma per la tua meravigliosa carriera e per quanto hai dato. a tutto lo sport italiano. Con questo è tutto per Sportivamente, torniamo giovedì prossimo, un saluto da Casale Cortecerro, dagli occhiali di Elisa. Grazie. 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 Grazie.